ciao ciao allora adesso io farò i capelli mossi insieme a voi io ho finito così così come trucco mascara illuminante rossetto e poi non mi ricordo cosa ho messo aspettate che io peccino prima i capelli solo che con questo caldo c'è e proprio david a evitare la piastra ma perché io ho un problema cioè con i capelli sono diventati ingestibili non so come come farli quindi li faccio mossi ecco però prima innanzitutto faccio la riga al centro quindi devo prendere un fermaglio per aprire il braccialetto o lo sai aprire tu cosa non riesco ad aprirlo e adesso lo apro io già come se no ecco dietro comunque per i capelli mossi non è calda vediamo se l'ho aperta sì allora farò le onde quelle larghe come sempre ovviamente lo sapete che con questa piastra si possono fare due tipi di onde quelle larghe quelle più strette ma io preferisco quelle larghe non mi piacciono allora quelle strette io le ho fatte una sola volta tanto tanto tempo fa perché dovevo fare quei codini che erano tipo qua sopra per non sembrare pelata appunto ho fatto quelle strette ma naturalmente dopo due secondi che ne facevamo metà testa l'altra metà si era già sciolta c'è una pinza geni la prendi da qualche parte perché dovete sapere che io non ho più la mia pinza praticamente perché l'ho prestata a una mia amica al mare e niente c'è non me l'ha tornata se ne è andata con la mia pinza io sono rimasta senza pinza geni ma una qualsiasi solo per dividere i capelli perché io utilizzavo non so se l'avete mai vista una pinza piccola perché io ho pochi capelli quindi non è necessario una pinza enorme c'è questa apposta per la ragazza il mio outfit è questo con i pantaloncini a marterite fiori come richiamate voi e questa maglietta verde che non mettevo da un po' di tempo ovviamente io mi dimentico sempre di comprare il termoprotettore quindi brucio i capelli ma tanto i capelli al libro di rose dance è appunto ah comunque c'è pure questa collana le ho presi tutti dietro già sì c'è anche questa collana che tutti quando facciamo i video la collana questa qua con il culicino quando faccio le live o le foto e i video mi chiedono dove l'ho comprata l'ho presa da shane letteralmente perché comunque ho visto un video di una ragazza dove diceva che praticamente si piastrava i capelli con questo caldo e i capelli davanti ce li aveva tutti attaccati infatti ha ragione vediamo come il bello che a me fa strano questo dito perché mi sembra che mi manca questo dito mi fa strano perché vedo tutte le unghie che sono così e poi questo però ad essere sincera sta passando quindi come va il dito? aggiorna un po' la sensazione di questo dito allora il dito si è quasi letteralmente smonfiato allora ancora non del tutto però è meno gonfiato rispetto alle altre volte e c'è sei tipo già rimarginato un pochettino la felicità quindi non c'è nessuna infezione no c'è nel senso c'è ancora tipo un po' di un po' di pus non so se si dice così non lo so però sta passando ecco comunque vi aggiorniamo un po' su una cosa cioè giorno 6 è il compleanno di nostra mamma non sappiamo che cosa dobbiamo fare cioè non lo so non so se magari io chiudemi in un ristorante se non è mai esagerato perché fa troppo caldo cioè allora farle un regalo è una cosa scontata io infatti la vorrei magari portare fuori però non andare come ha detto Jenny in un ristorante perché alla fine sì allora lì vai mangi bene e poi però che cosa fai ci andiamo sempre fuori a mangiare alla fine cioè stai chiusa nel ristorante che cosa fai di diverso niente quindi vorremmo fare una cosa diversa dal solito ma non lo so non ne ho la minima senti Nanti quando poi finisci perché è quasi vuole di caldo me lo apri questo cosmo un attimo comunque noi vorremmo andare un po' fuori sì un po' fuori così e poi è capitato anche di sabato sera quindi sicuramente ci saranno tantissime persone poi vabbè ovviamente il sabato sera escono praticamente tutti quindi non lo so direi perfetto no? scusa no guarda ecco perché io non voglio mai truccarmi d'estate perché siccome Nanti non mi hai fatto comprare la cipria d'estate sembra che tipo sei tutta appiccicosa appiccicosa sembra che ti sei messa tipo non lo so l'acqua in faccia quindi sembri strana ecco invece con la cipria diciamo che un pochettino si sentava la situazione comunque qualsiasi cosa faremo per quanto riguarda il compleanno di nostra mamma vi teremo aggiornati ovviamente non lo so faremo dei video se andremo fuori non lo so qualsiasi cosa faremo ecco certo come sempre ovviamente io se andiamo a fare una passeggiata su lungomare voglio scendere in spiaggia anche se sono vestita io ci dovo tutti i panci mi spiego un po' la nostra idea avevamo pensato di andare ovviamente la mattina al mare e poi aspettate e poi magari o rimanere direttamente anche il pomeriggio fino alla sera cioè rimanere proprio lì oppure non lo so cioè tornare a casa di pomeriggio e niente cioè prepararci a casa e poi tornare la sera bisogna vedere ancora questo non lo sappiamo perché innanzitutto a me non durerà mai il cellulare dalla mattina fino alla sera quindi come faccio non ho neanche il caricatore portatile e dove lo tacco cioè dove lo metto e non lo so cerchi carichi anche l'altro telefono scusami e portiamo pure l'altro vabbè sì questa è un'opzione poi l'unico problema è che mia mamma praticamente deve andare da mia nonna e quindi cioè lei in teoria il pomeriggio è impegnata quindi non lo so Jenny non può neanche rimanere lei al mare tutta la giornata quindi dovrebbe comunque poi tornare ma che restiamo noi restiamo noi non lo so cioè perché allora tornare a casa secondo me prepararsi è solo una perdita di tempo perché? è perché poi io quando sono a casa mi prendo di panico quando mi devo preparare e dove ti prepari ci prepariamo al lido? al lido? sì tanto c'è trucchi al lido? sì certo tanto c'è tanto c'è e che c'è? conosco quello dell'idea è il mio amico è vero questa è ragione Jenny è un nostro amico cioè mi fa morire da l'inizio sì è troppo simpatico praticamente c'è è un ragazzo che lavora lì è simpaticissimo allora l'ho aperto però la persona ci vede ci chiama da lontano soprattutto a Jenny fa ciao Jenny è simpaticissimo se vedrai questo video sei il mio preferito infatti sì è vero è vero cioè io di solito sono sempre seria ma quando lo vedo c'è proprio mi fa morire dalle risate l'ho aperto e non lo so chiudere che è successo? le mie tradizioni comunque niente cioè secondo me se avete qualche idea per quanto riguarda il compleanno magari scrivetelo nei commenti così non lo so cioè secondo voi è una buona idea appunto rimanere dalla mattina fino alla sera sì tanto le mie le mie batterie non si scaricano ma io sono carica 24 ore su 24 ma dove ti prepari se voglio farmi i capelli dove li faccio già ma smetti i capelli con 40 gradi lisci non naturali bagnati no assolutamente sì certo ma smetti con questa piastra perché te li stai soltanto rovinando non lo so vi aggiorneremo per qualsiasi cosa Jenny puoi leggere un attimo cos'è successo? eh non lo so leggi il messaggio stanno arrivando dei messaggi ma non riesco a leggere perché abbiamo il telefono al contrario poi te lo dico poi te lo dico perché la fossetta si vede da un lato non è una cosa che mi riguarda Jenny che cosa sta scrivendo Jenny si è quella cosa di stamattina quella cosa che mi aveva detto si e che è successo una cosa brutta eh si in che senso in che senso non lo so non ce l'ho riuscita a leggere non lo so gossip gossip dai Jenny non te lo posso dire è una cosa brutta ti ho piaciuto di sì come sì davvero sì ho preso tutti i capelli già sì ma non mi puoi dire qualcosa no vabbè poi vedremo dopo ok e che devo fare cioè ma io non sono convincente non posso quando voi mi dite di una bugia non ci riesco ma infatti dirgli un genio è proprio così sincera cioè ovviamente non come me ma poi anche la mia faccia cioè le esprime proprio la mia faccia mi sto mentendo però non voglio comunque fuori sta diluviando tanto per la prova cioè noi parliamo di mare però fuori sta diluviando adesso quindi no vabbè dai passerà che poi in teoria ci sta qualche giornata di pioggia perché alla fine non può fare sempre quelle belle giornate però non lo so ci sta ogni tanto che poi a proposito adesso che ci penso la mia sfortuna è anche questa perché ha presente le unghie che volevo fare arancioni come il costume ed ecco faccio questa unghia così perché non le posso cioè questa non so se me la potrà ricostruire quando andrà cioè quando andrà lì quindi cioè magari resterò tipo con tutte le unghie ragioni fatte e poi arriva il mignolo che rimarrà sicuramente così io ne sono sicura perché secondo me non passa non lo so speriamo di sì ti prego cresci ma è normale Jenny che ti cresce scusa no cresci passa l'importante è che guarisci prima che vada a fare le unghie ma stai tranquilla sì ha detto che l'importante è che non c'è nessuna infezione che poi te le ricostruisce e poi l'acqua e sale funziona per davvero perché quando io infilo il dito dentro l'acqua e il sale sembra che tipo si attaccano delle bolligine al dito aspettate che chiudo la piastra sembra che si attaccano le bolligine al dito è qualcosa che brucia però poi basta allora questo è il risultato cioè li devo sistemare devo aprirlo ovviamente da sopra adesso sono abbastanza brutti un po' così comunque direi che abbiamo finito il video perché ci siamo preparate sì abbiamo finito io non ho fatto niente però Jenny mi ha sentito a compagnia sono supporto morale comunque per la prima volta ci siamo scambiati di postazioni esatto che brutto fammi tornare infatti io non mi trovo da qui allora io non mi cambio però mi piace più questa parte vabbè allora direi che possiamo salutare ciao ciao